C'è il sole attorno a me Amici buongiorno, giovedì 18 di agosto Mannaggia Dove si va stasera? Dica a lei dove si va stasera Ah non lo so, non ho guardato nel calendario perché sicuramente lavoriamo tutti i giorni Io stasera vado in via Giorgio Amendola numero 13 Non mi schiodo da via Giorgio Amendola numero 13 C'è uno spettacolo? Sì c'è lo spettacolo di Luca Bergamini and Company in calzoni corti, ciabatte e petto nudo E petto nudo Fa la furba, lo sa che stasera siamo a casa No stasera, sai cosa, una cosa che mi dispiace Perché noi stasera dovevamo essere a Olmo Con il tributo goodbye E sapete che Olmo anche in questa stagione ha deciso di non fare la festa Però è una cosa che ci è dispiaciuta tanto perché ci avevano voluto Non come orchestra Bergamini ma per portare a Olmo questo tributo Alla storia e alla musica dei Poo Però vabbè, ce la facciamo a casa Ti canto io questa sera qualche canzone a casa col pianoforte Ci mettiamo lì al fresco e le canto qualche canzone Lei prepara due spaghettini col pomodoro, basilico, faccia qualcosa di buono Io ci ho pensato Siccome sono molto stanca e sarai stanco anche tu Invece di dirmi ti porto in un posto fresco Ti porto a mangiare a petto la novella A petto la ti porto Allora aspetta che guardo il foglio qua che mi ha confuso Ecco qua Allora tradizione Nicolucci Tradizione Nicolucci oggi Oggi Nicolucci Salutiamo la famiglia Nicolucci e Diglio Le Diglia, tutta la grande famiglia Perché oggi tornano sul palco Tagliavini e Zaccherini Per farci ascoltare altri due grandi successi della tradizione Nicolucci Però sapete, prima questo spot dedicato alla nostra crociera del cuore Che dal 15 al 25 ci porterà in mezzo al mare In mezzo al mare canteremo, suoneremo Ci vediamo tra poco Amici cari, la musica unisce La musica fa sognare, la musica fa viaggiare Perché siamo qui insieme a queste persone meravigliose Che voi tutti quanti amate Siamo nelle vostre case Con la musica e le canzoni Perché cosa faremo? La crociera del cuore, Cappelletti Quella con il cuoricino così Dal 15 al 25 ottobre Ragazzi, preparata la bandi? Sì, preparatissima Ragazzi, c'è un itinerario meraviglioso Portogallo, Francia, Spagna Un itinerario da scoprire anche attraverso tutte le escursioni Una cosa importante Che non si incosta Crociera Sì, e poi la cosa importante Non abbiate paura perché tutti dicono Ma il Covid, cosa c'è? C'è un'assicurazione che vi tutela Sotto tutti gli aspetti E poi soprattutto a chi devono prenotare Che noi viaggiamo da tanto tempo Già, Filippo, ragazzi Una garanzia Una garanzia Quale dire? Serietà Competenza Una bella persona Esatto Che butteremo a mare Però è una bella persona Ragazzi Quindi mi raccomando Ripetiamo 15 25 Ottobre 2022 La Crociera del Cuore Con Roberta Cappelletti Luca Bergamini E anche lei Novella Vandi Grazie Vi aspettiamo Vi aspettiamo Anzi, una cosa da sottolineare Entro il 15 agosto Bisogna prenotare Perché vogliamo davvero navigare Per avere tutte queste sicurezze Queste certezze Ma soprattutto per divertirci insieme Ragazzi Spendete i soldi Questi sono spesi Benissimo Sono d'accordo Ciao Grazie 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 No, ride Adesso ve lo dico perché ride Perché quel bel amicone Del mio amicone Che fa l'amicone Renato Maltoni Gli diceva Quando siete là in mezzo al mare Affogalo Bergamini Me l'assegno Renato E lei rideva Compiaciuta proprio Anzi Adesso si comincerà a pensare Amici sapete Che se Viene fuori Bergamini al negato Novella è stata No, ma lui C'è la salvagente Novella Tutti contro novella Mi raccomando Renato Ti svero un segreto Lui sta sempre a galla Perché c'è la salvagente Sì Ma amici Cosa mi tocca supportare Per fortuna che c'è la musica ragazzi C'è la musica Allora Ricordatevi Questo è il numero di telefono E la mail Per la nuova edizione Di Degni di Nota Vi ricordo che Casa Bergamini è finita Dunque che questa sera siamo a casa Ricordiamo Abbiamo già ricordato la nostra crociera Del cuore Del cuore E i casti Di Degni di Nota Esatto Brava E allora cosa facciamo? Ah niente Con il prossimo brano Cos'è facciamo ascoltare I nostri amici a casa? Ma allora È bella È bella Sul pezzo oggi Io sono sempre sul pezzo La botta Ci vediamo dopo Amè Amè In Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A Pettolo, con la Vespa. Strada ghiaiusa. No, ma poi è comodo perché comunque c'è sempre quell'amico che aspetta la Vespa. No, ma che non avrà mai. Non si può mai sapere. Buona giornata. Mi capite, vero? Vi voglio bene. Neanche uno sguardo e via, sei neve eterna che cade fredda qui addosso, pelle d'avorio tu. Mistero e poesia, neanche so chi sei. Ma per te sto morendo, io resto solo qui, forse invisibile. hai tuoi occhi che mi fanno male. Non voglio illudermi, ma credo che anche tu hai in fondo un po' di cuore, forse addirittura amore. Io non ho parole per raggiungerti, non ho mani per accarezzarti perché stella lontana sei. Io vorrei scaldarti forte l'anima, vorrei essere nei tuoi pensieri, ma tu occhi di ghiaccio vai via. Tu non ti accorgi mai di chi c'è intorno a te, Diamante puro sei Che si infrange sul cuore Luce d'inverno tuo Inarrivabile Inseguo la tua scia Ma per te non esisto Io resto solo qui Forse invisibile Hai i tuoi occhi che mi fanno male Non voglio illudermi Ma credo che anche tu Hai in fondo un po' di cuore Forse addirittura amore Io non ho parole per raggiungerti Non ho mani per accarezzarti perché Stella lontana sei Io vorrei scaldarti forte l'anima Vorrei essere nei tuoi pensieri Ma tu Occhi di ghiaccio vai via Occhi di ghiaccio sei mia Occhi di ghiaccio tu sei Occhi di ghiaccio sei mia Occhi di ghiaccio sei sky Ma sembriamata sei ma Man se fai piaccio sei ma Ma sembriamata sei ma